Amici di Android Blog, bentornati ad un nuovo video confronto, questa volta tra SoundHound e Shazam. Vediamo quale dei due funzionerà meglio. Come avrete potuto ben capire dall'introduzione, oggi mettiamo a confronto due applicazioni. SoundHound e Shazam, scusate, sono due applicazioni per chi non lo sapesse, che sono in grado di rilevare il brano musicale che stiamo ascoltando. Oggi andremo ad analizzare quale delle due funzioni meglio e quale delle due capta, rileva più velocemente il brano. Quindi noi ci aiuteremo con un piccolo autoparlante e inizieremo a mettere delle canzoni in modo tale da vedere quale delle due applicazioni rileva prima. Iniziamo con un classico Vasco Rossi Alba Chiara. E attiviamo la ricerca. Ok. Come avrete potuto vedere su Alba Chiara, Shazam è stato un pelo più veloce, mentre SoundHound comunque si ha la rilevata velocissimamente. Iniziamo con, trattiamo un'altra canzone, questa volta Rolling in the Deep di Adele. Vediamo, torniamo, mandiamo indietro le due applicazioni. E attiviamo. Ecco, per questa sfida invece ha vinto SoundHound, quindi pareggio. Poi mettiamo una canzone un po' più rock, punk rock. Mandiamo indietro e via. SoundHound l'ha rilevata subito. Ed ecco che l'ha rilevata anche Shazam, questa volta un punto a favore di SoundHound. Continuiamo con qualche altra canzone, questa volta un po' più commerciale, Avicii, You Make Me Up. You Make Me, va bene. Lasciamolo un attimo andare avanti. Ok. Come avrete potuto vedere è uscito subito SoundHound che però non ha riconosciuto direi la canzone, mentre Shazam l'ha riconosciuta un pelo in ritardo. In realtà Shazam riconosce subito la canzone ma ci mette tanto a farci vedere poi il titolo e l'autore. Direi che abbia vinto SoundHound anche se qua non mi dà il titolo preciso della canzone. Quindi sempre più o meno in pareggio. Facciamo un'altra canzone, un classico, Gianna Nanini, Bello e Impossibile. Vedete Shazam ha riconosciuto subito. E anche SoundHound, anche io stavo parlando comunque sia, ha riconosciuto dopo pochi secondi la canzone. Adesso facciamo una canzone famosa di Robbie Williams, Buddies. Andiamo indietro. Alziamo un po' il volume. E andiamo. Ok. Questa volta ha vinto SoundHound. Un classico, canzone e cartoni animati, Il Re e Leone. Vediamo quale dei due riconoscerà prima. Ha vinto Shazam, quindi un punto a favore di Shazam. Proviamo una delle ultime canzoni dell'ultimo brano, dell'ultimo, scusate, bravo, dell'ultimo album di Ligabue, Il Sale dalla Terra. Se parte. Ok. Ok, anche in questo caso ha vinto Shazam. Proviamo l'ultima. Questa è una canzone che si intitola Fichi Fichi. È una canzone che ho conosciuto quest'estate da parte di Gianni Drudi. Non è una canzone famosa, quindi difficilmente sia Shazam che SoundHound riusciranno a riconoscerla. Però mettiamola alla prova proprio per vedere se riescono a riconoscere tutto. Non vi state a scandalizzare per le parole che dice. È abbastanza ambigua. Invece, mano sorpresa, sono riusciti a riconoscere anche Fichi Fichi. Bene. Cosa dire per finire? Spegniamo innanzitutto l'autoparlante. Sono due applicazioni ottime. A livello di Play Store è più famosa Shazam. Nel senso che Shazam è stata scaricata più volte rispetto a SoundHound. Io stesso un tempo usavo SoundHound. Poi ero passato a Shazam per il semplice fatto che riconosceva più canzoni rispetto a SoundHound. Scusate, sono passato a Shazam. SoundHound doveva essere ancora aggiornata. Infatti riconosceva poche canzoni. O comunque se ne riconosceva meno. Adesso, come avrete potuto vedere, le canzoni vengono riconosciute tutte. Chi più chi meno velocemente. In questo video confronto ha vinto Shazam. Ma nell'utilità, nell'utilizzarlo quotidianamente, sinceramente non si sente la differenza. Comunque sia le canzoni si trovano subito con il nome del titolo, il nome dell'autore e anche l'album. Iniziamo a parlare però delle applicazioni. Iniziamo a parlare. Facciamo un breve. Cerchiamo di far capire com'è fatta l'applicazione al suo interno. Come potete vedere, Shazam ha toccare questo tratto qua per capire come funziona. Cioè, per andare a rilevare il pezzo, il brano che stiamo sentendo. Abbiamo i nostri tag, quindi sono tutte le canzoni che abbiamo riconosciuto. E poi abbiamo l'ambito novità. Aspettiamo un attimo che ricarichi. Comunque sia, abbiamo vari ambiti. Abbiamo Esplora. E poi abbiamo, e non me lo riesce ad alterare, la classifica. Comunque sia, come potete vedere, novità nell'ambito musicale. Esplorare nelle zone dove siamo. Mentre per quanto riguarda SoundHound, abbiamo la possibilità di andarlo a ricercare via internet. O comunque sia attraverso la mappa, scusate, non via internet. Torniamo indietro. Qua abbiamo la nostra cronologia, quindi tutte le canzoni che abbiamo trovato. Le dieci ricerche, la possibilità di mettere dei preferiti o anche creare un account di SoundHound. E fine, abbiamo delle classifiche. Come potete vedere, le più in voga, eccetera. Le poco suonate, le più twittate, eccetera. Sono, ripeto, due applicazioni che funzionano veramente bene. Io al momento uso SoundHound, uso, scusate, Shazam, ma ciò non vuol dire che SoundHound sia da meno. Sono tutte e due gratuite. Entrambe non occupano un grandissimo spazio. Sta a voi la scelta. Fateci sapere nei commenti, sia del video su YouTube, ma anche nell'articolo che faremo direttamente sul nostro sito androidblog.it quale dei due preferite e con quale vi siete trovati in mezzo. Un saluto da Mattia Pignataro per Androidblog.it